Bene, ennesimo video dal Giappone, forse uno degli ultimi, probabilmente l'ultimo, pare che ci stiamo per fare esplodere da qualche parte, no no, sai tipo i video di terroristi che fanno prima di un attacco, no no, sembra brutto ma non vogliamo fare kamikaze, tra poco si torna, si riparte. C'è qualcosa che non vi abbiamo ancora fatto vedere di figo del Giappone, probabilmente tra le attrazioni più... Sì sì, è molto più importante della Tokyo Tower, del museo della dinastia del periodo Edun, forse è la cosa più importante da vedere in Giappone. Che cos'è Eugenia? Il cesso. Il cesso, perché anche il cesso ce l'hanno tipo da vent'anni, i giapponesi hanno il cesso elettronico che è una figata assoluta. Una bomba eclatante. Ce l'hanno praticamente tutti, quindi in casa, così, e negli alberghi anche. In realtà ci sono vari tipologici elettronici, si chiamano washlet, la marca più famosa è Toto, però anche Panasonic, Sharp, fanno washlet. In pratica sostituiscono il bidet, quindi almeno diciamo che per noi italiani è un trama un pochino dimezzato, no? Comunque è il trama, perché il bidet è una cosa... Però è il tuo titolo, perché almeno comunque un po' ti puoi lavare. E ora vi facciamo vedere come funziona. Ci sono tantissime tipologie di washlet. Ora, questa è la nostra stanza. È uno molto basic, molto classic. Come vedete è prodotto dalla Toto, che non è il gruppo di Los Angeles dei 70, ma... Lì sono i Toto, ma... Allora, vi facciamo vedere. Ci sono varie... Questo sembra un WC normalissimo, con anche la maniglia per scaricare, ma non è proprio così normale. Abbiamo una console, che tante volte è riportata qua, in questo caso in albergo no, che ci permette varie funzioni. Allora, questo come vi dico è molto basic, quindi non ha tantissime cose. La funzione principale è spray. C'è una cosa che esce da qua, poi vi faremo vedere, che praticamente serve per pulire lì dove serve. Questo soft, praticamente è la stessa cosa, però con un getto un pochino più largo, quindi più... Quasi piacevole. Piacevole, più avvolgente. Più avvolgente. E poi questo bidet. Per le donne. Per le donne. Perché loro se lo fanno... Ah, perché se lo facciamo noi, ci sfondano i coglioni. Ti fraccia le palle. Ti fraccia le palle. Non fraccia le palle. Questo invece è più per le donne. Poi qua puoi modificare... Ah, è importante da dire che se lo premi due volte... Oscilla, quindi il flusso dell'acqua cambia. Oscillating. Per fermare lo stop. E si può cambiare anche la... Che ogni genialato è comunque oscillating. Oscillating è un genialato, sì. È molto... Funziona a dovere. Adesso, questa versione c'è poco. Poi sono versioni che hanno... Qua per pulire. Ci sono versioni addirittura che hanno il sedile riscaldato. La musichetta che non fa sentire fuori. O meglio, la musichetta, il suono dell'acqua che scorre per rilassarvi. Oppure per coprire rumori corporali, nel caso tipo ti vergogni. In un bagno pubblico, no? Qui in albergo è molto, molto. Nessun riscaldamento, nessuna tavoloccia vibrante col massaggio, cose strane. Proprio basic. Però, malgrado sia basic, è comunque una figata. Allora, ha un sensore, quindi non si può, in teoria, attivare nulla, nessuna funzione, quando non c'è nessuno sopra. Ma a noi, con l'aiuto del buono genio che premerà... Vai oggi, anzi. Spray normale? Facciamo vedere spray normale, tanto uguale. Vabbè. Pronti? Abbassa, abbassa la potenza. Ora è a metà. Abbassala, abbassala, abbassala. Ora sta fraccicando praticamente tutto. Infatti abbiamo levato la carta? Abbiamo levato apposta la carta. Ok, ora è al minimo. È al minimo. Quindi sta, mettendola a cannone. Mi sto già fraccicando. Ora tolgo al mio braccio, la mia mano, il mio peso. Ok. E questo è in cui tantissimo arnese esce, ritorna dentro, nella sua sede. Dopo aver fraccicato il bagno. E il muro, questo lo stiamo facendo per voi, quindi praticamente abbiamo... Ci siamo fatti un laghetto... Cioè, ora finisce il video. No, abbiamo ancora 30 secondi. 30 secondi per mostrare. Soft. Soft, quando non c'è molta differenza. Vado a mettere peso. Vai. Eccolo. Soft. Io metto il minimo. Metto il minimo e oscillating. Oscillating. Come vedete... Oscillating fa una... Oscilla. Oscilla. Parecchi inquinanti. Vabbè, poi vabbè il bidet è... Mi ha fatto il lago. Vabbè il bidet è uguale praticamente. La posizione è un po' diversa. E niente. 5 secondi rimasti. Penso che sia abbastanza per aver mostrato il cesto giapponese. Ciao da...